California, allontanatevi. State lontani, non intervenite. State lontani. Qualunque cosa sentiate. Mills! Eccolo che arriva. Cosa? Avrei voluto vivere come te. Stazzi, ma che cazzo stai strillando? Ascoltami, detective. Sto cercando di dirti quanto ammiro te e la tua incantevole moglie. Cosa? Tresi. Non ascoltarlo, Mills! Ma che cazzo dici? È scandalosa la facilità con cui un membro della stampa può comprare delle informazioni dagli uomini del tuo distretto. Insomma, che succede? Mettici una pistola! Sono passato a casa tua stamattina, quando già è riuscito. Mills! Ho giocato a fare il marito. Ho giocato ad assaporare la vita dell'uomo comune. Cettala, Mills! Ma non ha funzionato. E allora ho preso un souvenir. La sua bella testa. Mills! Mills! Ma di che sta parlando? Dammi la pistola. Cosa c'è nella scatola? Butta, butta via la pistola. Ti ho visto con la scatola! Cosa c'è dentro? Perché io invidio la tua vita normale. Cetta la pistola, David! A quanto pare è l'invidia, il mio peccato. No! Che c'è nella scatola? Te lo dico se mi dai la pistola! Che cazzo c'è in quella scatola? Te l'ho già detto io. Sei un bugiardo! David! Sei un bugiardo dal cazzo! Sta zitto! È quello che vuole. No! No! Lo vuole che tu gli spari. No! No! Dimmelo! Dimmelo che non è vero! Dimmi che non è vero! Trasformati in vendetta, David. No! Lei sta bene! Dai! Dimmelo! Trasformati in ira. Dimmi che sta bene! Se uccidi un indiziato sarà stato tutto inutile! No! Lui lo sa! No! Mi implorava di risparmiarla, Detecco. Sta zitto! Mi implorava per la sua vita. Sta zitto! E per la vita del bambino dentro di lei. Sta zitto! Oh! Non lo sapeva. La pistola, David! David! Se tu ora lo ammerzi, potrà vinto. Avrà vinto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tu dove sarai? Da qualche parte. Ma non lontano. Ernest Hemingway una volta ha scritto Il mondo è un bel posto e vale la pena di lottare per esso. Condivido la seconda parte.